Siamo con Danilo Mancini, dirigente del Maracanà Fondi Casida maschile, ma anche la sua gestione con la femminile. Parliamo in generale del progetto Maracanà, ma sembra che la maschile si era partita per fare un campionato di alta classifica, però qualcosa non è andato per questo giusto. Sì, in effetti all'inizio ci davano come squadra vincitrice del campionato, ma dopo aver cambiato 4 quinti della squadra, titolari in campo, ci vuole un po' di tempo per trovare i giusti ritmi della partita, però nonostante ciò siamo stati pure sfortunati in alcune partite su di punteggio e nei minuti finali si siamo fatti raggiungere e anche superare come risultato e perdere quei punti che ci facevano stare là, sopra tutte le altre squadre. Però nulla, ancora non è tutto detto, è finito il campionato, ci sono ancora delle partite da giocare, di cui alcuni scondri diretti e ci stanno pure i play-off da giocare. Infatti quest'anno mi sembra che si è menzionata anche questa cosa, quindi siamo lì, c'è una lotta fra voi, l'Oldranci e poi via via le altre squadre Olympus, le due sorelle dello Scauri, ma a parte questo giustamente c'è anche il progetto femminile che va meglio rispetto a un maschile, cosa che credete aver capito e non era previsto per voi, no? Oddio, all'inizio si era puntato su tutte e due con un miste come Ciro Iorio che dà tutto per questa categoria. Già quest'estate si è parlato di fare un buon campionato, già sostituendo un portiere come Claudia Monti che dà sicurezza al reparto e dà anche la tranquillità alle ragazze di giocare come sanno giocare. E l'altra Zangrillo Agnese che ha dato pure la sua sicurezza nella fase difensiva. Sinceramente io ci credevo a questo risultato e do merito al mister e alle ragazze che stanno facendo un bellissimo campionato. Tutto merito loro perché io purtroppo per problemi personali non ho potuto seguire da settembre fino a dicembre entrambe le squadre, perciò do merito al mister Ciro Iorio, al mister Emilio Cibelli e tutta la dirigenza del Maracanato. Diamo una sguarda adesso al campionato, torniamo al maschile di Serie D, questo campionato capeggiato adesso dal Tredico Scauri grazie alla vittoria nel derby nel recupero lo scorso 26. Come lo vedi, giustamente, tu speri vivamente che si possa inserire il Maracanafondi, ma come vedi la lotta per questo vertice? Beh, a Tredico Scauri c'è una marcia in più. Io l'ho vista sia all'andata che al ritorno. All'andata stavamo vincendo di 2 a 0 a metà primo tempo, però con alcuni elementi come Davide Simeoni e Zottola hanno dato la svolta alla partita. Sia all'andata che al ritorno Zottola non si poteva fermare in nessun modo, infatti si è scadonato contro di noi e abbiamo perso con un risultato di 13 a 6. È una bella squadra, è una squadra fatta da elementi che già hanno fatto la C2 come Minutolo e altri giocatori. Il Virtus Scauri mi ha deluso un po' nello scontro di Re, perché ho saputo che aveva perso di 6-7 a 0. Contro di noi hanno fatto una bella partita, anche se quella partita non si doveva giocare perché il campo era scivoloso e l'albito ha avuto a far giocare lo stesso, mentre il derby l'hanno spostato per un'altra giornata in modo tale che il parquet non risultava scivoloso. Però secondo me l'Atletico Scauri vince il campionato. Questa è la tua previsione, l'Olympus quindi non ci sono scampi né per voi né per l'Olympus? Io non ho mai per vinto una squadra, però vedendola giocare dico Atletico Scauri, l'Olympus sì è una bella squadra, abbiamo uno scontro diretto in casa, abbiamo sabato prossimo uno scontro diretto con l'Old Ranch, con il Virtus Scauri, si devono formare ancora Virtus Scauri l'Old Ranch, io punto a un secondo posto, poi su tutto quello che viene dopo di più. Insiediamo un po' anche l'Old Ranch, come si sembra anche quest'anno il lavoro di Giovanni Unni ha dato di due frutti, è partito a Maluccio e adesso ha recuperato un po' di posizioni. Sì, ha recuperato un po' di posizioni, sta un punto sopra noi, l'andata ci siamo in posti 3-1, abbiamo fatto noi il gioco in casa, abbiamo gestito la partita, quando vai su e sai gestire la partita è difficile che l'altra squadra riesce a metterti il bastone tra le ruote, però sta facendo un bel campionato pure l'Old Ranch. Torniamo adesso alla femminile, parlando con l'intervista che ho fatto con Iori, appunto mi parlava del progetto futuro, anche perché la squadra manca poco, quindi a parte qualche match importante, ma credo che la C è quasi certa, come sta pensando la società di questo progetto futuro? La società fa parte di un gruppo, di questa polisportiva creata a fondi, la polisportiva crede su questa... Ma la cosa ufficiale è già questa polisportiva? La polisportiva già sta lavorando da settembre, abbiamo anche in affidamento il palazzetto dello sport di fondi, oggi stiamo a livello della polisportiva, il presidente e tutti i componenti della polisportiva crede e vuole investire su questo gruppo di ragazze, perché è una situazione, è un progetto nuovo a fondi, difficilmente si trova una squadra femminile qua a fondi, bisogna arrivare a Formia e poi su a Latina. E poi mi va di dire che Ciro Iorio è un grande lavoratore, quindi merita anche qualcosa di più importante, no? È un grande lavoratore, uno che dà il 101% su questa categoria, su queste ragazze, ci crede, io lo vedo sempre in allenamento, quando posso vado in trasferta, cosa che quest'anno per problemi sempre familiari non sono andato, però in casa mi perdo una partita a palazzetto, sta lavorando bene, sta lavorando benissimo, perciò lavoreremo anche per fare questa C2. Ed ora il prossimo turno prevede per entrambe le formazioni per il maracanà femminile un'altra partita importante, stesso dico se credo per il maracanà a fondi maschile, no? Sì, 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 con il maracanà maschile ci sarà questo derby su questa stracittadina che è molto sentita a fondi, speriamo di fare un buon risultato. Con il maracanà femminile è uno dei tre incontri decisivi per la stagione, oltre all'Atletico Sociaria e Città di Forme che avremo tutte e due in casa, altra partita importante da mettere in questo ulteriore mattone per questa casa che stiamo costruendo. D'accordo, allora in bocca al lupo per il proseguo, ci sentiremo giustamente al termine del campionato per fare un punto finale sull'attività della maracanà a fondi. Buon campionato a tutti. Grazie.